Pascone! Sì! 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 Oh, carai! Ma, po' di... Sì! No, 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 no! Sì! No, 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 no! Sì! Sì! Sì, che ammazzo! Dore, che ammazzo io! A lui! Sì! Sì! Non puoi approfondire? Non puoi approfondire? Ti devo prendere! Non puoi approfondire! Posso buttarmila prima! Oh, la zichitta! Tutto bene? Posso buttarmila! Dai, in fine! Non puoi approfondire! Non puoi approfondire! Non puoi approfondire! Ok, vai! Tu lascia stare mia roba! Io sgastro quella! Eh? Vai! Chi? Vai! Chi? Sì! È vero! Chissà! ma troppo bene inizia credo che il mondo è tutta la macchina becchia perfetto anche il canale bullone per bullone sono tutta tocca albighi di tiro di a tutta calcio se tu in macchina faccheremo non ti smonto pure quello lo schiacciano affettatelo ciao babian ciao 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 ciao